La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sassari ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre persone per i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagine trae origine da alcune denunce presentate nel 2022 dai proprietari di diversi appartamenti di condomini della cittadina gallurese che avrebbero individuato nei loro cassetti fiscali cessioni di crediti per lavori di efficientamento energetico in realtà mai eseguiti. Secondo le ipotesi di reato contestate, gli indagati avrebbero realizzato un complesso sistema illecito basato sull'utilizzo di due distinte società con sede legale a Roma costituite per le emissioni di fatture false finalizzate da un lato a simulare l'esistenza di spese mai sostenute, dall'altro a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione fiscale. L'intero disegno fraudolento sarebbe stato realizzato in particolare con la complicità di un tecnico professionista incaricato dell'asseverazione dei lavori. L'ordinanza cautelare dispone, oltre agli arresti domiciliari nei confronti dei legali rappresentanti delle società romane e del professionista, il sequestro preventivo volto ad impedire la reiterazione del reato di circa 5 milioni di euro di crediti in campo alle società ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni ed altre attività riferibili agli indagati e alle società fino a concorrenza di circa 400 mila euro.